E' tutto pronto per il concorso nazionale Carlo Levi? Sì, abbiamo cercato di fare qualcosa che dia la possibilità di toccare molti campi in modo da non escludere, come dire, almeno le maggiori categorie di espressione voglio esagerare il genio umano, però in realtà è quello lì, insomma, le arti, quello è in modo da potersi ritrovare tutti assieme in quell'eclettismo che aveva Carlo Levi che era bravo quando scriveva, era bravo quando pensava, era bravo quando dipingeva beato a lui, era bravo in molti campi. Ecco, perché quel levismo, questa dote grandissima del levismo non va persa, nemmeno nella sua parte più popolare, perché una delle più belle spiegazioni del levismo è nella domanda che fece un contadino di Aliano a Carlo Levi che gli disse, mo tu con le nostre sorti sei fatti i soldi e a noi che ci hai dato? Ecco, Carlo Levi che li amava non gli rispose, vi ho fatto esistere, perché prima di lui Aliano non c'era, però è quello, chi non capisce un tubo dice, come ha detto un ministro che con la cultura non si mangia, lo dice chi non la capisce, perché in realtà l'Italia potrebbe non solo campare, ma far campare gli altri, solo con quella. Siccome hanno fatto in modo da renderci, come dire, più ignoranti possibile, infatti grazie anche agli ultimi ministri, Gelmini, Profumo, soprattutto Corazza, ci stanno ammazzando le scuole, stanno uccidendo le università al sud, l'ultimo decreto, quello della Corazza, è un insulto al genere umano, perché è la condanna a morte di tutte le università del sud, per favorire solo quelle del nord e in particolare quella di cui lei era rettore. Benvengano quindi manifestazioni come queste, anche e soprattutto per, come diceva giustamente lei, valorizzare le nostre eccellenze culturali? Sì, non userei a questo punto neppure il termine eccellenze, solo per non dimenticare che oltre le cretinate della Lega, le sciocchezze del tentativo di ricordarsi del sud solo quando c'è da rubargli i bronzi di Riace, i grifoni di Ascoli Satriano, eccetera, eccetera. C'è una fioritura di espressioni, di lettura del genere umano, del mondo, della storia, del futuro, delle nostre possibilità, nostre in senso non dei meridionali, di tutti, che viene da molto lontano, da molto lontano. Se oggi, ancora oggi, al sud, nonostante tutto quello che li hanno fatto, c'è una, si genera molta art, guardiamo il cinema per non andare, se togli gli autori, i registi e gli attori meridionali dalla industria cinematografica non rimane quasi più niente. Da Checco Zalone alla grande bellezza è praticamente quasi tutto sud. Questo non vuol dire che i meridionali sono più intelligenti, no, vuol dire soltanto che l'ambiente e le circostanze li portano a poter produrre diversamente. C'è chi per l'ambiente è portato a produrre frigoriferi e ne siamo grati perché i frigoriferi servono e chi è portato a produrre cultura. Ecco, la cultura si mangia, se la vogliono uccidere perché ci vogliono affamati.